Ciao a tutti, accetto la sfida di Daniele Piccirillo e Matteo Setti che mi ha fregato sul tempo. Questa è un'iniziativa molto bella, molto bella perché fa parlare, fa parlare di questa malattia che spesso passa inosservata, però mi raccomando, oltre che fare questo, fate una donazione. Quindi io non ho il ghiaccio, ma come potete vedere c'è tanta acqua fresca che io riempio. Intanto, mentre faccio le mie nomination, mi sposto. Allora, nomino Trek degli African Jet, Laurent Van, Luca Sereni e Gio di Tonno. Mi raccomando, donate! Grazie!